Forse a tanti non è chiaro, ma oggi sabato 23 settembre 2023, 23, stanghetta 9 2023, si fa la storia. Si fa la storia. Ci sono ottime possibilità che Allegri mantenga per la prima volta da quando è in sella alla Juventus la stessa formazione della giornata precedente. Ed è un buon segnale, però ne parliamo insieme in questo video. Allora ragazzi, bentornati sul mio canale. Come va? Mi auguro bene. Oggi è giornata di contenuti perché gioca la Juventus, gioca alle 18, ci vediamo in live dalle 17.30, faremo una warm up di riscaldamento con le varie formazioni, commenti e altre cose. E poi ci immergiamo direttamente nella live reaction della partita, per cui vi aspetto in live e poi anche nel post partita. Ci sono da dire diverse cose ragazzi, io vi consiglio sempre di continuare a iscrivervi come state facendo e a commentare. Mi raccomando, sono curioso di leggere tutti i vostri commenti, le vostre sensazioni pre partita eccetera. Questa ragazzi è una partita fondamentale perché non bisogna solamente vincere, bisogna anche un pelo con vincere. Io ragazzi dico una cosa, la bontà del lavoro fatto finora, o del lavoro fatto a vedere in certe partite, senza continuità rimane un caso isolato, una favoletta. Invece la continuità dà credibilità a quel lavoro, per cui è fondamentale che la Juventus faccia una partita massiccia contro il Sassuolo e anche contro il Lecce. Ci aspettano partite adesso facili, alla portata. Il Sassuolo ragazzi, io l'ho visto giocare. Magari oggi farà la partita della vita e me lo aspetto, visto che è considerata anche la scopola che abbiamo beccato dal Frosinone. Me lo aspetto, che prepari la partita molto bene Dionisi. Ma d'altro canto la Juventus ha le possibilità per rullare Sassuolo e Lecce. E sono sei punti e ci proiettiamo al derby di Torino in questo modo poi. Prima c'è l'Atalanta e poi c'è il derby, per intenderci. Quindi due partite toste, per cui è fondamentale già prendersi i punti adesso. Perché le partite sono alla portata. Ma poi ripeto, la continuità è l'unico aspetto che dà credibilità al lavoro di Allegri. Se casca in questa partita, senza risultato, o vincendo e non convincendo, a mio parere non dà serenità. Per dare serenità e convinzione e consapevolezza alla squadra, a mio parere, bisogna fare oggi e martedì delle grandi prestazioni. E di conseguenza anche dei buoni risultati. Io mi aspetto sei punti da queste due partite, ragazzi. E meno un po' me le fa girare. Non sto qui a dirvelo. Poi dipende anche il come. Ci sono partite maledette, dove magari la Juve gioca, fa, crea, spinge, fa 20 tiri. La palla non entra per imprecisioni, per questioni anche di grandi prodezze difensive loro. E ci sta. Dici, vabbè, è una partita storta, ma i segnali comunque rimangono buoni. Quei segnali sono fondamentali per capire se il nuovo corso con Magnanelli porta a delle innovazioni e alla continuità. Questa è la cosa più importante. Per cui, siccome di continuità, adesso Allegri ne sta dando ottenendo la stessa formazione precedente, sono dell'idea che si possa fare benissimo, anche in questa partita, con quella formazione. C'è un'unica cosa che mi convince ancora poco, e ne parliamo in questo video insieme. L'undici titolare qual è? Beh, è lo stesso della Lazio. Quindi, Scesni in porta, difesa composta da Gatti, Bremer, Danilo che gioca a sinistra, McKennie esterno di destra, Miretti, Locatelli, Rabiot in mediana, Kostic a sinistra, Chiesa Vlaovic. Di questi sapete qual è quello che mi convince meno ad oggi? Non so. Kostic. Al di là di Locatelli e delle prestazioni di Locatelli, che l'ultima partita non ha fatto neanche troppo male. Però credo che Kostic sia un po' insipido in queste ultime uscite con la Juventus. Insapore. Che non è un giocatore verace, come lo ricordiamo un po' l'anno scorso in certe partite. Capisco che sia un giocatore monocorda, che sappia fare sempre le stesse cose, eccetera. Però mi aspetto qualcosina in più da lui. E quindi questa è una buona occasione. Però abbiamo anche delle alternative molto molto valide. Questo è. La formazione invece del Sassuolo dovrebbe essere Cragno tra i pali, ormai così è passato come secondo. Toljan, Herlic, Ruan, tre soldi. E Vigna, questa è la difesa. Poi ci sarà Balocca, Matteus Enrique, Torsvet, Berardi, Pinamonti, l'Oriente. Questo è l'undici titolare del Sassuolo. Un 3-4-3. No, scusate, un 4-3-3. Per cui io mi auguro che la Juventus abbia preparato bene questa partita perché sarebbe fondamentale per il proseguo, per dare un segnale, per mettere Fieno in cascina, per dare continuità anche di rendimento dei risultati. Che è la cosa che mi preme. Cioè io l'unica incognita che ho sulla Juventus è, ok, la bontà della prestazione con la Lazio, ok, di tutto ciò che c'è stato. È una roba ripetibile o rimane un caso isolato come l'anno scorso? Perché abbiamo delle prestazioni decenti e discrete, l'anno scorso anche buone, molto isolate e sparpagliate in tutto l'anno. Io mi auguro che invece la Juventus inizia a inanellare una serie di partite buone. E quindi, vediamo, sarebbe questo il segnale che mi aspetto dalla Juventus. Detto ciò, il Sassuolo rimane una squadra ostica da non sottovalutare, ma non credo che i ragazzi la stiano sottovalutando. E anche, credo che stiano allenando con un altro piglio. C'è la vice chiesa che stanno molto bene, speriamo che possano essere decisivi. E poi bisognerà fare anche delle scelte, delle rotazioni, anche in vista della prossima partita che è già martedì. Per cui è il primo caso, oltre alla Coppa Italia, che arriverà dove giocheremo ogni tre giorni. Quindi, anche questo aspetto va valutato. Quindi, non so che altro aggiungere su questa partita. Io sono... Non lo so. Sono inquieto, perché voglio vedere di che pasta è fatta la Juventus. E oggi lo scopriremo insieme. Io vi do appuntamento, chiaramente, alle ore 17.30 per il collegamento in live. Ci sarà la live reaction durante la partita. Commenteremo insieme la Juventus. Poi ci sarà post partita, mi raccomando, dopo la gara. Quindi, tanti appuntamenti. Il mio consiglio è uno. Voi iscrivetevi al canale, mi raccomando, che non costa nulla. E poi ci sarà tanto di cui parlare. Nel day after, nel post gara, eccetera, eccetera, eccetera. Con la speranza, ragazzi, di dare una bella spallata e di mettere un po' di ansia. Comunque, un po' di pepe. Perché comunque, certe squadre hanno consumato energie fisiche e mentali. Poi, l'Inter, ovviamente, ha l'Empoli. Però, sapete, Napoli, Milan, sono squadre che possono fare dei passi falsi. Noi dobbiamo continuare a macinare punti. E' fondamentale per la classifica. Non possiamo lasciare nulla. Dobbiamo essere affamati. Affamati. E speriamo di vedere quel P anche in campo. Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti. E le vostre opinioni sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, campanella e a più tardi. E sempre, fino alla fine. Forza Juve.